Blue Paradise Polizia sequestra beni per 50.000 euro alla costa Piromalli Bruzzano Zeffirio crolla il ponte lungo la provinciale Rosarno 19enne segregata e costretta a prostituirsi Aspreggio Calabria mancano 300 unità di personale Stasera riparte al voto al voto speciale referendum Confronto fra Nicola Irto e Federica Dieni Roccella Ionica Gloria Polo racconta il suo viaggio nell'aldilà Bentrovati con il consueto appuntamento con il telegiornale di Telemia In gente sequestro di beni per un totale di circa 50 milioni di euro Sequestrati dalla Polizia alla Cosca Piromalli L'attività investigativa è stata svolta dalla divisione Polizia Anticrimine Della Questura di Reggio Calabria In collaborazione con la procura distrettuale antimafia Tra i beni sequestrati anche una villa di proprietà e un villaggio turistico Ammonta 50 milioni di euro il valore dei beni raggiunti Da un provvedimento di sequestro eseguito nei confronti di Nicola Comerci 69enne di Nicotera ma operativo nella piana di Gioia Tauro L'imprenditore avrebbe importanti interessi economici nelle province di Vibo Valencia Come anche a Roma e Bologna in tutto il nord Italia Secondo la tesi degli investigatori I beni sarebbero riconducibili alla pericolosa cosca di Indrangheta dei Piromalli Clan attivo nella stessa piana di Gioia Tauro Le indagini patrimoniali che hanno portato al sequestro sono state svolte dalla divisione di Polizia Anticrimine Della Questura di Reggio Calabria Coordinata dalla sezione misure di prevenzione della procura distrettuale antimafia I sigilli sono scattati ad una villa lussuosa di proprietà dell'imprenditore Un villaggio turistico a Parghelia L'azienda Brianza SRL a Calderana di Reno a provincia di Bologna E alle quote del capitale sociale di un'azienda con sede a Roma Comercio era finito ai domiciliari nel marzo scorso su ordine del GIP di Vibo Nell'ambito dell'inchiesta Blue Paradise dal nome dell'azienda di cui egli stesso era amministratore E poi scarcerato il primo aprile insieme alla moglie e i due figli dal tribunale del riesame Che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari Con l'ipotesi di reato di Brancarotta fraudolenta e documentale La procura del capoluogo aveva indagato sul fallimento del Blue Paradise di Parghelia L'azienda della famiglia Comerci ed operante del settore della gestione di strutture turistico alberghiere A Bruzzano Zeffirio è crollato il ponte lungo la strada provinciale Che collega la cittadina alle frazioni Vediamo le immagini Siamo in diretta dal ponte di Bruzzano Zeffirio dove dopo un anno E dieci giorni crolla il rimanente ponte messo in nuovo Quindi è seriamente messa in rischio la tenuta di questo ponte Quindi amici di Bruzzano che vi dovete recare a Brancaleone Non attraversate il ponte Ci sono le forze dell'ordine che ve lo diranno naturalmente E' molto serio e molto pericoloso Abbiamo provveduto a inoltrare tutte le immagini Al presidente della provincia Giuseppe Raffa Abbiamo avvisato i vigili del fuoco Naturalmente adesso si attende l'immediato intervento Dei vigili del fuoco Sono giunti sul posto i carabinieri di Bruzzano Che hanno chiuso l'accesso per Brancaleone e da Brancaleone Quindi pregherei tutte le persone di Bruzzano che sono di recarsi non per protesta Protestare democraticamente per dare sensibilità e appoggio a tutte le forze dell'ordine E' crollato alle prime luci di questa mattina il ponte sulla strada provinciale Che collega il centro abitato di Bruzzano con la strada statale 106 e il comune di Brancaleone In particolare è crollata la campata di cemento armato di recente costruzione Rispetto a quella ad archi molto più vecchia Il ponte è crollato sulla fiumara sottostante Ostruendo di fatto il letto con il serio pericolo In caso di pioggia incessante che straripi La strada provinciale è stata interdetta al traffico con un'ordinanza del sindaco di Bruzzano Franco Cuzzola La provincia di Reggio Calabria, proprietaria dell'arteria stradale Contattata dallo stesso sindaco, ha garantito un intervento immediato Questo era già inclinato dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015 Adesso è crollato La cosa più grave è che crollando ha danneggiato la parte che permetteva il transito E non solo, ma ancora più grave di tutto è l'ostruzione del letto fluviale Perché è crollato sulla fiumara Questa fiumara attraversa Bruzzano E' al lato, nella zona sud di Bruzzano Quindi questa ostruzione in caso di piogge potrebbe provocare anche uno stradipamento della fiumara stessa? Certo, una esondazione della fiumara e quindi con grave pericolo per quelle case che già sono state danneggiate l'anno scorso E' una situazione di pericolo, di pericolo veramente L'altra campata quindi non è neanche percorribile? Io guardi anche se è una sala provinciale stamattina alle 8 appena avvisato della situazione Per cercare di salvaguardare l'incolumità pubblica Ho fatto un'ordenanza per la chiesura del sappico Perché c'è da avere paura In attesa poi mi sono collegato con l'ufficio tecnico provinciale E veramente con grande celerità sono venuti i tecnici della provincia E ce ne abbiamo concordato per il momento di interrompere il transeco Ecco a che ora è crollato il ponte? Ma io ritengo la prima ora del mattino Di questa mattina Di questa mattina Ecco Sindaco, questo ponte, quindi questa strada Che cosa collega di fatto? Il centro abitato di Bruzzano con le frazioni? No, no, questa è una strada che collega il centro abitato di Bruzzano Con il comune di Brancaleone e la statale 106 Poi abbiamo un'altra strada che collega Bruzzano direttamente alla 106 Non passando per Brancaleone Per fortuna c'è il transito Anche se è difficoltoso Dall'altra parte Quindi nel momento non c'è miscelato Anche se ho avuto assicurazione Da parte della provincia Che lunedì interverranno Sulla strada Percorribile Perché è stata danneggiata L'anno scorso e ci sono dei problemi Quindi interverranno subito E poi vedranno Con l'interessemento Del demanio fruviale Un intervento urgente Per poter disostruire Il letto fruviale Perché se dovesse piegare Ci sono grossi, grossi problemi Anche in queste ore C'è una pioggia incessante Quindi c'è? Diciamo che La pioggia per fortuna Non è intensa E' una pioggia Leggera E' una pioggia Che per il momento Non dà sta preoccupazione Ma se dovesse da un momento All'altro Aumentare l'intensità Potremmo avere dei problemi Il commissario Brancati Consegna una lista di priorità Al commissario della Sanità Scura Ma la carenza di personale medico Paramedico e amministrativo E' impressionante Mancano circa 300 unità Scura la settimana prossima Illustrerà tale richiesta a Roma Mancano primari Medici, personale paramedico E infermieri Negli ospedali della provincia Una mancanza cronica A cui si aggiunge anche La mancanza di personale amministrativo Specializzato all'interno Dell'azienda sanitaria provinciale I numeri sono spaventosi Per come stima La direzione generale Dell'ente Mancano circa 300 unità Il commissario Giacomino Brancati Però ha stilato Una lista di priorità urgenti Per reperire il personale E ha mandato tutto A massimo scura Il vero cambio di rotta Nella gestione dell'ente E' attraverso il personale Per averlo è necessario Che partano i concorsi E si possa reperire Gente giovane Motivata In grado di rimettere In pista l'Asp Le prime indicazioni Arriveranno già Nei prossimi giorni Quando Scura Andrà a Roma Per chiedere proprio Che per tutte Le aziende sanitarie calabresi Vengono inserite Nella legge di stabilità All'esame del governo Le risorse per i robusti Del personale E garantire così Il mantenimento dei servizi Oltre che i necessari Miglioramenti Delle attività Negli ospedali Del territorio provinciale Nel prossimo anno Brancati spera Di poter lavorare Già con i primi rinforzi Ma comunque Il commissario E' già proiettato Allo futuro Più a lungo termine Riduzione in schiavitù Induzione e sfruttamento Alla prostituzione E' stato arrestato A Rosarno Un nigeriano Di 42 anni Richiedente Asilo politico Che avrebbe Sequestrato E ridotto In schiavitù Una sua connazionale Di soli 19 anni L'ennesimo atto Di degrado Che in quel contesto Ha trovato Un terreno fertile Un uomo Di 42 anni Sande Omoro Dion Originario Della Nigeria E' stato arrestato A Rosarno Dal personale Del commissariato Di polizia Di Gioia Tau E della squadra Mobile Di Reggio Calabria Per aver tenuto In schiavitù Ai fini Della prostituzione Una connazionale Di appena 19 anni L'attività Di polizia E' stata condotta A seguito Di una specifica Segnalazione Della questura Di Campobasso Che indicava In un appartamento Di Via Carboni A Rosarno La presenza Di una donna Una cittadina Nigeriana Costretta A prostituirsi Da un uomo Che si faceva Chiamare lo zio E da una donna Che rispondeva Al nome di Silvia O Madame Iniziava così Una delicata Attività Investigativa Fatta di appostamenti E finalizzata A monitorare Alcuni cittadini Extracomunitari Al fine di individuare La persona Di interesse operativo Grazie al lavoro Degli agenti Di polizia E' stato individuato L'appartamento Sottoposto ad un controllo All'interno vi era Effettivamente La giovane Tenuta Segregata In una stanza Contro la sua volontà All'interno Dei locali Ispezionati E' stata accertata La presenza Di altre tre donne Probabilmente Dedita anch'esse Alla prostituzione Tutti i soggetti Sono stati portati Negli uffici Del commissariato Di Gioia Tauro Dove sono stati Identificati E dove la ragazza Con l'aiuto Di un interprete Di lingua madre Ha raccontato La sua triste storia Fatta di violenze E sopprusi Ha raccontato Di essere stata portata In Italia E che 15 giorni fa Mentre si trovava In un centro Di accoglienza Di vasto E' stata prelevata Da colui Che lei conosceva Con l'appellativo Di zio E da una donna Conosciuta Come Silvia I due Dopo averla Caricata In macchina L'hanno portata Fino a Rosarno Dove è rimasta Segregata Nell'appartamento Di via Carbonai E costretta A prostituirsi Con delle persone Di colore Dietro pagamento Di una somma Di denaro Il ricavato Dello sfruttamento Sessuale Veniva poi consegnato Ad Omorodion Il nigeriano Arrestato L'attività di sfruttamento Subita E' stata giustificata Con la necessità Di recuperare La somma Di circa 20.000 euro Che sarebbe stata Spesa Per consentire Alla giovane donna Nigeriana Di arrivare Clandestinamente In Italia La povera vittima Trascorso le sue giornate Nell'appartamento In uno stato Di degrado assoluto Nel corso Della perquisizione La polizia Ha trovato Effetti personali Profilattici Telefonini Cellulari E circa 600 euro In contanti La ragazza Dopo aver ricevuto L'assistenza E le cure Del caso E' stata portata In una struttura Protetta Con la possibilità Di iniziare Un percorso Assistenziale Che l'aiuti Ad uscire Dall'incubo E delle violenze Subite Nell'ambito Nell'ambito Dei quotidiani Servizi Di controllo Del territorio Carabinieri Della stazione Di Africo Nuovo Hanno tratto In arresto In fragranza Di reato Campean Cornelia Bianca Trentenne Di origini rumene Per furto In abitazione La stessa Sarebbe introdotta All'interno Della casa Di una signora Del posto E mentre Intenta Rovistare Tre cassetti E' stata sorpresa Dalla proprietaria Sono stati ritrovati Gioielli Del valore Di oltre 1000 euro Mentre Passiamo Intanto All'Ocri Ha ascoltato Il collaboratore Di giustizia Antonio Femia Anche detto Titta Nell'ambito Dell'esame Del processo Morsa sugli appalti Ha risposto Alle domande Del PM De Bernardo Circa le presunte Divisioni All'interno Della cittadina Di Geosaionica Nel processo Morsa sugli appalti L'udienza Della 35enne Collaboratore Titta Femia Che ha riferito Su domande Del PM Antonio De Bernardo Che i principali Esponenti Delle tre zone Sarebbero Giursino Per il centro Giuseppe Lupoi Per Prezzarello Demasi E Caracciolo Per Giardini Femia Si è poi Concentrato Sulla figura Di Caracciolo Descritto Come una persona Anziana Con i baffi Che sarebbe stato Il capo locale Di Giardini Ed era Nella copiata Del Femia Anche se non Si è detto Certo Della presenza Di quella persona Al conferimento Dello sgarro Tra le vicende Raccontate Dietro Quando nel periodo Della festa Di San Rocco A Gioiosa Femia E altre persone Stavano facendo Una colletta In favore Di un giovane Che aveva subito Un grave incidente Stradale Quella richiesta Sarebbe stata interpretata Male da alcuni soggetti Che avrebbero Frainteso la richiesta Come una mazzetta Fino a quando L'equivoco Si è chiarito Con l'interessamento De vari Ursino Demasi E Caracciolo Indicate dal collaboratore Quali persone Che mantengono l'ordine Il processo Infine è registrato Una serie di acquisizioni Di trascrizioni Provenienti Da altri procedimenti penali Il deposito Di documenti Alla fascicolo Del PM Quindi il tribunale È rinviato Al 15 di dicembre Per un conferimento Di un incarico Per Italia Il prefetto Di Reggio Michele Di Bari Ha convocato Il tavolo Locride Sanità Istituito Dalla ministra Beatrice Lorenzin Durante l'incontro Con i sindaci Della Locride Le finalità Dell'incontro Saranno quelle Di verificare Le varie criticità Del territorio In materia Di sanità Si iniziano Ad intravedere Iniziative miranti A superare Le gravi criticità Della sanità Ospedaliere Territoriale Della Locride E a bloccare Il quotidiano Depotenziamento Dell'ospedale Spoc di Locride Il prefetto Di Reggio Michele Di Bari Ha convocato Per giovedì prossimo 24 novembre Il tavolo Locride Sanità Istituito Dalla ministra Beatrice Lorenzin L'incontro Richiesto All'indomani Della manifestazione Dello scorso 15 ottobre Era stato stimolato Dalla protesta Dei medici ospedalieri A causa Dell'annuncio Della cancellazione Di oltre 10 posti letto L'audizione Con la ministra Era servita A evidenziare La più alta carica Della sanità La grave situazione Che si era venuta A creare Per l'ospedale Della Locride Nonché La promessa E mai realizzata Apertura Della casa Della salute Di Siderno E tutte le altre Criticità Che attanaiono Il territorio Per l'assenza Di ulteriori Presidi sanitari Qualificati Che facciano Da filtro Per l'ospedale Nel corso Di quell'incontro La ministra Proponeva L'istituzione Del tavolo Locride Sanità Compito del tavolo È quello Di verificare Le criticità Ed effettuare Un cronoprogramma Degli interventi Per dare risposte chiare Ai sindaci Ai cittadini Ai dipendenti Della sanità Della Locride E dovranno essere Condivise Da commissario A Asper Regione Con i sindaci Della Locride È proprio Per dare un senso Positivo All'incontro In prefettura Che ieri Sindaco Calabrese Unitamente Alla segreteria Provinciale Della UIL FPL Ha organizzato All'Ocri Presso la sala Consiliare Per martedì Prossimo 22 novembre Con inizio Alle ore 17 Un incontro Dei sindaci Di Locride Siderno E della rappresentanza Dei sindaci Della Locride Con i medici Ospedalieri L'incontro Sottolineato Calabrese Servirà A valutare E predisporre Una proposta Condivisa Il tavolo Che si terrà In prefettura Giovedì 24 novembre E adesso Passiamo All'editoriale Del direttore Enzo Romeo Ben trovati Oggi venerdì Ci avviciniamo Alla fine Di questa settimana Che è stata Sicuramente Una settimana Importante Per la politica Per il Confronto Sui dati Economici E purtroppo Per quanto riguarda La Calabria Ma anche l'Italia Per quanto Ieri Banca Italia Abbia evidenziato Un aumento Della produttività Industriale In Calabria I problemi Restano Restano davvero Tanti E oggi Su alcuni quotidiani Addirittura Il quotidiano del sud Ha aperto Con la vicenda Del ponte Cannavino C'è uno scontro Sui dati La protezione civile Sostiene che siano Incompleti Nessuna analisi Del terreno Su cui poggiano Le travi Quindi è stato richiesto Un monitoraggio H24 Il ponte Cannavino È sulla statale 107 E bisogna Ricordare Che è al centro Naturalmente Di una Non solo polemica Ma anche di un'attenzione Proprio in ragione Del fatto Che è Così pare Pericoloso E quindi Il problema Che si pone Davvero serio A proposito Di ponte Oggi Dalla Locrida Arriva invece La notizia Del crollo Di un ponte Nel territorio Di Bruzzano Una notizia Che ha purtroppo Una sua gravità Proprio in ragione Del fatto Che oggi È una giornata Piovosa Che ci sono stati Anche giorni Di pioggia intensa Nei mesi Di settembre E di ottobre Soprattutto Verso fine Settembre Anche se poi Come più volte Abbiamo detto L'estate Qui è stata Molto lunga Quindi C'è una difficoltà Ulteriore Nel territorio Locrida Ho già provato Dalle violente Piogge Dell'anno scorso Proprio di questi tempi Ricorderete Nell'area di Branca Leone Bruzzano E compagnia Cantando Quanti danni Fece il maltempo Oggi La notizia Di questo Crollo Che naturalmente Comporta Comporta Un impegno Non solo Evidentemente Da parte Della Amministrazione Comunale Ma da parte Della Regione Calabria E probabilmente Anche del governo Nazionale Questa Italia Sta Qualcuno dice Cadendo a pezzi Probabilmente Una parte Dell'Italia Spesso Capita al sud Ma Le notizie Arrivano anche Da altre Realtà Territoriali Quindi Il monitoraggio Del territorio Probabilmente Non è stato Fatto bene La domanda Viene D'obbligo Farla Però E' anche vero Che gli impegni Ci sono stati Per mettere In sicurezza Diverse Aree E una Situazione Passiamo Non proprio Da palo in frasca Perché sempre Di infrastrutture Si parla Una situazione A sé La merita Anche il lungomare Di Siderno Che è crollato Dopo Il maltempo Di due anni fa Nei prossimi giorni Secondo Quanto Alcuni Rumors Della politica Sidernese Evidenziano Ci sarà La presentazione Al centro Polifunzionale Dei progetti Che sono stati Presentati Sulla Realizzazione Del nuovo Lungomare Di Siderno Che praticamente Non è Fruibile Nella sua totalità È veramente Uno scempio Oggi Il maltempo È stato Due anni fa Molto Molto brutto E anche L'anno scorso C'è stata L'attacco finale Da parte Del mare Quindi Si guarda Con molta attenzione A questa Data Che dovrà essere Fissata A questo appuntamento A Siderno Però Sappiamo Anche che Qualche mese È stato perso Perché la commissione Non riusciva mai A una commissione Apposita Consigliare Non era mai Riuscita A riunirsi Per alcune assenze Questo francamente Non è bello Per carità Saranno anche Giustificate le assenze Sappiamo anche Che non sono state Formalizzate Queste riunioni Quindi non ci sono Verbali Però Qualche mese Pare che sia stato Perso E di questi mesi Probabilmente La città di Siderno Che già non vive Uno dei momenti più felici Della sua storia Avrebbe avuto bisogno Perché già per la prossima estate Sarà impossibile immaginare La realizzazione completa Di un nuovo lungomare Se andrà bene Estate 2018 Quindi Non è il caso Di perdere tempo E di rallentare Quella che dovrebbe essere Una procedura veloce Quella stessa procedura veloce Che speriamo sia conclusa Per il ponte Cannavino Statale 107 E anche per quanto riguarda Il ponte di Bruzzano Che oggi è crollato Grazie Buon venerdì Ci vediamo domani L'ho fatta lunga Mi perdonerete E adesso passiamo alla pubblicità Restate con noi Grazie a tutti Grazie a tutti